Sono 1.417 i positivi in provincia, 57 i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore. Sono tutti in isolamento domiciliare, 18 sono a Gela, 15 a San Cataldo, 12 a Niscemi, 5 a Caltanissetta, 4 a Mazzarino, 2 a Serra di Falco, 1 a Campofranco e 1 a Mussomeli. Sono 79 i ricoverati in questo momento nel reparto di malattie infettive, dei quali 11 sono Nisseni, 30 sono i posti disponibili a Caltanissetta, all'ospedale Sant'Elia, 30 nell'ex RSA, 38 sono i posti disponibili a Gela e utilizzata anche una parte del reparto di chirurgia generale. A breve probabilmente 4 sale del blocco operatorio saranno convertite in terapia intensiva al Sant'Elia a Caltanissetta il 30 novembre e la scadenza per il nuovo piano sanitario di emergenza. E poi ancora 226 sono i pazienti positivi a Caltanissetta tra degenza domiciliare e ricoveri, 553 a Gela, 238 a Niscemi. Sono due i decessi che si contano, un paziente di Marianopoli e uno di San Cataldo.